Oggi presenta il suo ultimo romanzo a un gruppo di studenti qui all'università. Qual è il messaggio che vuole dare su questo tema alla generazione futura? Guardi, io non faccio predicatori, quindi io non ho messaggi. Io racconto storie, io faccio il narratore, racconto storie. Se poi dentro le storie ci stanno anche dei messaggi, è un altro paio di maniche. Chi ce li trova li raccolga. Io una cosa posso dire, che è quella che ha improntato i miei parenti e che impronta anche me, che è quello di non arrendersi mai. I personaggi dei miei libri non sono eroi vincenti, senza macchia, senza paura. Sono pieni di macchie e pieni di paura anche tutti i miei personaggi, tutti i miei eroi. E però questi, quindi, tante volte perdono pure, ma tutte le volte che perdono si alzano e ripartono. E quindi è poi la forza del lavoro e la fiducia nel futuro, darsi da fare, lavorare, studiare. Una storia familiare, quella della sua famiglia. Ecco, perché ha deciso di raccontarla in questo momento della sua vita? Perché i libri vengono quando vogliono loro, non quando vuoi tu. Io sapevo che lo dovevo fare quando avevo 6-7 anni, però l'ho sempre procrastinato, perché io non mi diverto a scrivere. È fatica, è lavoro, è dolore. Ho preferito vivere, fare altre cose, la politica, il sindacato. Perché i libri è meglio leggerli che farli, mi creda. È più bello a leggerli che a scriverli, che è doloroso. E alla fine, però, alla fine della mia vita mi sono venuti. Meno male che sono venuti, se no mi toccava rinascere un'altra volta per rifarli. Avete capito come sarà il pomeriggio?